salve a tutti bentornati nel mio canale ricordo quando da giovane urologo ero convinto che meno estrogeni all'uomo in circolo e meglio è essendo un ormone femminile nulla di più sbagliato me ne sono poi reso conto chiaramente andando avanti negli anni e dedicandomi all'andrologia di quanto gli estrogeni siano fondamentali a partire dalla neuroplasticità cerebrale quindi l'estrogeno ormone indispensabile però quindi se troppo basso ma anche troppo alto può creare dei danni o comunque delle problematiche che possono andare dal metabolismo all'umore esistono quindi serie di molecole antiestrogeniche che quindi vanno inibire l'azione degli estrogeni in eccesso ricordiamoci che tutto nasce in medicina per applicare esempio al trattamento del tumore del seno nella donna estrogeno responsivo quindi esistono gli anti estrogeni conosciamo benissimo dei nomi quali ad esempio il novadex e il tamoxifene meno cromifene per alcuni aspetti che affrontiamo spesso nel dettaglio in questi video nello stesso tempo ci sono degli anti aromatati molecole che sono in grado di inibire quell'enzima quella molecola che è in grado di trasformare il testosterone in estrogeno quindi se non ne blocchiamo la sua produzione avremo sicuramente meno estrogeni in circolo pessima abitudine anche negli sportivi che utilizzano cicli anabolizzanti inserire di defo e gli anti estrogeni gli anti aromatasi l'estrogeno come detto è fondamentale ma anche nello sport a livello articolare ma nel trofismo muscolare quindi mai inserire senza sapere i giusti livelli di estrogeni prima di partire durante il percorso e alla fine del ciclo questo è un messaggio importante parlando di anti aromatasi il titolo di questo video è formestane ne esistono tanti di anti estrogeni formestane è una novità perché se ne parla negli ultimi tempi ma esiste da tantissimo tempo addirittura prima dei classici inibitori dell'area delle aromatasi che conosciamo è venuto subito dopo tamoxifene e cromifene qual è il suo scopo quello proprio di bloccare le aromatasi periferiche perché nella donna in premio inopausa il testo dell'estrogeno è prodotto in grosse quantità dall'ovaio nella donna in poste menopausa affetta da tumore al seno e gli estrogeni sono prodotti principalmente in periferia e quindi nei tessuti periferici attraverso l'azione delle aromatasi per cui la finalità di creare un anti estrogeno diverso da quelli presenti era proprio quello di bloccare la produzione periferica di estrogeni il formestane è una diciamo quindi un anti aromatasi di tipo steroideo suicida suicida perché sacrifica la propria conformazione per bloccare in maniera definitiva l'attività appunto dell'aromatasi come se lo inserissimo dentro una una top una chiave poi la rompiamo quella serratura è bloccata per sempre quindi è un inibitore della aromatasi di tipo suicida steroideo ma è stato creato precedentemente agli anti aromatasi che conosciamo che sentiamo nominare spesso exsemestane o altri adesso non è questo il momento per non creare confusione per cui nuovo perché se ne parla adesso ma in effetti già presente da tempo fu introdotto appunto in terapia per il tumore del seno ma si è visto poi che la sua disponibilità non era così efficace tant'è vero che la somministrazione doveva essere intramuscolo ogni due settimane intorno ai 250 miligrammi fu poi ritirato dal commercio quindi ecco molecola non tutto sicura anche da un punto di vista terapeutico adesso si stanno proponendo visto formulazioni per bocca ricordo però questa sua scarsa biodisponibilità quindi la somministrazione orale mi lascia un attimino per presso ma chiederemo ai miei amici esperti in chimica se ci sono dei presupposti per aumentare la biodisponibilità anche nella formulare ricordiamoci quindi che è un inibitore dell'aromatasi di tipo suicida e agisce nella parte periferica quindi dell'aromatasi che troviamo nei tessuti tra i vantaggi ci viene detto anche che è in grado di liberare il testoserone libero con una e diciamo così blocco dell'attività delle proteine che trasportano testoserone l'SHPG di circa il 30 per cento per cui potrebbe avere anche questa azione simile mesterolone per chi conosce i farmaci quindi una liberazione di testoserone libero e che chiaramente può essere di aiuto in persone che stanno affrontando un percorso anche di tipo sportivo anabolico questo è quanto quindi giusto perché questa molecola si sta nominando è giusto sapere che esiste da tempo quindi non prendiamola come una novità assoluta ricordiamoci che gli estrogeni sono fondamentali per il nostro equilibrio dell'uomo quindi non attacchiamo con enzimi anti aromatasi anti estrogeni immediatamente perché potremmo avere dei problemi importanti tra l'altro anche di rebound alcune molecole anche che bloccano le aromatasi alla loro sospensione potrebbero dare una ripestimolazione quindi creare quantità di estrogeni importanti quindi valutiamo sempre tutto con calma affidiamoci a professionisti che si occupano di questi argomenti e cerchiamo sempre di ottenere risultati del nostro fisico sfruttando la genetica e l'epigeneria con questo vi saluto auguro a tutti una ottima giornata